depressione ansia sfiducia sensi di colpa mettete qualsiasi nome a queste emozioni umane avremo sempre solo una radice è l'inquinamento ambientale inquinamento ambientale sia interno dovuto all'alimentazione eccessiva e sia esterno ovviamente la società che uno lavora ma adesso velocemente vi do due antidepressivi che funzionano alla grande testati ovviamente da tanti casi e hanno dato sempre ottimi risultati zucchero bianco e marmellata due mostri e demoni che la gente dice che fanno male avete letto le testimonianze che vi ho fatto nel video precedente di quel ragazzo che mangiava oltre 1200 calorie in più di zucchero bianco perdeva peso e ha risolto tanti problemi poi è venuto e ha scritto anche lui stesso la testimonianza davvero meraviglioso qual è il problema del ambientale interno della depressione squilibrio ormonale in pratica mangiando in eccesso e i cibi ovviamente sbagliati l'equilibrio che madre natura ha voluto per i nostri ormoni che sono ovviamente sempre tendono all'omeostasi quindi alla stasi alla calma alla pace alla tranquillità alla felicità la felicità non è una condizione che si raggiunge una condizione che già si ha ma possiamo solo perdere come la salute e allora largiscono tutti questi agenti in modo davvero in vero e conto i peggiori ovviamente sono i prodotti animali soprattutto i grassi animali che hanno un impatto sulla psiche e sugli ormoni davvero non indifferenti e la gente c'è sentita il cosmo nel grassi buoni lasciate ovviamente anche i grassi vegetali un impatto ma non forte come quello animale perché hanno molto meno colesterolo che è un grande devia ormone e poi abbiamo il problema che troppi pochi zuccheri quindi fa abbassare la produzione ormonare di serotonina melanina melatonina tutti questi ormoni della bellezza della felicità della pelle dormire bene quindi non è sempre nervoso sempre nella negazione del dolce dello zucchero e quindi questo si riflette inconsciamente nella vita dell'animale la nevrosi nella stresi e gente che non ci può neanche parlare che va subito in scandescenza il problema che essendo tutti così nessuno se ne accorge e poi il problema sono i zucchi la guerra fa la gente al zucchero ma io vedo che la gente continua a ingrassare di più chi come me non fa la guerra allo zucchero non sa neanche che cosa significa mettere grasso corporeo e tutti quelli che fanno parte del gruppo riservato le sanno e l'avete visto le testimonianze sotto trovate tutti i miei link se volete sapere come si partecipa non è gratuito ve lo dico subito perché zucchero bianco e marmellata perché sono zuccheri veloci che entrano subito in circolo come quelli che sono della frutta fruttosio e glucosio noi abbiamo soprattutto bisogno di fruttosio non quello chimico purtroppo quello che vendono bianco non è fruttosio vero è glucosio invertito chimicamente fosse fruttosio vero magari ci metterei la firma sopra questa riprova che non è che se prendo la molecola la modifico e la faccio diventare come un'altra quella moleca no perché in organica è morta allora meglio mi prendo zucchero bianco che deriva da una pianta non è stata modificata è stata solo concentrata a meglio così e quindi se non riportiamo in asse ovviamente la nostra psiche dando i zuccheri che ricordo a dando gli zuccheri il corpo porta acqua e l'ossigeno all'interno delle cellule e quindi sono belle felici ma non basta bisogna eliminare per sempre quei prodotti che creano la depressione se no automaticamente non posso farmi passare il mal di testa con una martellata prima o poi mi sfascio la testa questo è abbastanza evidente e poi ci sono come abbiamo detto i problemi di ambiente esterno quelli non sono risolvibili se non andando a vivere in natura o quanto più possibile starci a contatto infatti durante i periodi estivi la gente sempre più felice più calma più rilassata perché possono stare al sole a contatto con il terreno più fuori casa e meno dentro casa ci sono le ferie e via discorrendo insomma tutti questi fattori messi insieme fanno la felicità o l'infelicità dell'animale non ci sono esercizi da fare mettersi sul lettino ascoltare e sapete i psicofarmaci che poi fanno suicidare la gente l'ho visto purtroppo succedere con amici intimi non si risolve con la chimica i problemi di un animale si risolvono rimettendolo in asse con la sua natura e all'interno della sua nicchia ecologica se no non ci sarà proprio possibile e tutti quelli che qua mi vengono a dire no ma io sono felice ma no non è vero proprio mascherate la cosiddetta felicità che non è felicità ma è solo gioia dovuta all'introduzione di cibo specifico di droghe per non far uscire quegli stati patologici lo sapete bene guardate facciamo un test in diretta so esattamente quello che vi capita in testa senza neanche conoscervi adesso fatevi cinque giorni di digiuno con me magari uno preso dall'entusiasmo dice sì dai facciamo a video finito no vabbè ma che fai ma lascia perdere se stronzate poco che faccio non mangio depressione ansia attacchi di panico che ce l'hanno tutti e stanchezza cronica soltanto che vengono mascherati da le varie droghe si parte con il caffè tutti i vari stimolanti l'eccesso di cibo l'eccesso proteico servono proprio a quello a mantenere l'acceleratore sempre levato e non andare al minimo e quindi far pulire il motore la macchina di mano psicomale tanto li vivete comunque questi stati perché durante la giornata avrete delle sconforto ansia depressione la famiglia fa quello quello vivete in quello stato e neanche ve ne accorgete perché lo sono tutti così quindi la vita standard è così allora sono tutti così ma non è così gli animali non vivono in quello stato guardate quel bel esemplare adesso di animale lì è molto più felice lui gioioso non sa neanche che cosa sono quegli stati che vi ho appena descritto perché vive molto più in assi a contatto con la sua di natura e con la natura io con questo video vi faccio risparmiare una marea di soldi altra ansia alta depressione perché tanto quello che farete con quei cosiddetti professionisti non funziona non andrà mai in porto se vivete sempre alle dipendenze di qualcuno pagherete tanto e zero risultati sul lungo termine sul breve termine c'è solo l'entusiasmo ancora una volta scariche ormonali potenti che fanno passare con lo stato d'ansia fate conto per farvelo capire no adesso state in un momento giù così poi avviene una situazione eccitante di pericolo fate conto per gli uomini entra una bella donna o per le donne un bell'uomo non subito avete visto come è passato in due secondi lo stato d'ansia di depressione a sconforto quello che volete ormoni altro che storia quindi invece questi due potenti stimolatori ormonali in modo naturale che cosa fanno danno energia cellulare portano acqua portano ossigeno e fanno sì che la cellula riesca ad essere nutrita e riesca ovviamente a produrre gli ormoni che deve produrre anche quelli della felicità il problema è che poi tutto quello che c'è dentro sono cazzi per il culo bisogna che piacciono ridurre le quantità di cibo a quello naturale che davvero infimo se non l'eccesso di cibo provoca la depressione dopo lo posso garantire e quindi avere un assetto ormonale sempre stabile sempre teso verso la felicità verso la gioia la spensieratezza e la libertà le chiacchiere stanno a zero non si risolvono problemi con la chimica né altre schiava faccia questi esercizi faccia questo no perché sono tecniche invasive nessun animale gli piace rinvadere il suo tempo e distrarre la sua vita dalla felicità dalla gioia dalla spensieratezza per fare cose innaturali non previste da madre natura per correggere qualcosa ancora non previsto ve l'ho detto prima mi faccio passare il mal di testa con la dinamite è passato il mal di testa ma è passato anche chi ha utilizzato la dinamite ovviamente non fate è soltanto un esempio quindi di che cosa stanno a parlare guardate io sono il più grande psicologo psicoanaloginista chi viene dal mio studio gli prescrivo questo più altre altre prescrizioni ovviamente è ipotetica perché non sono un professionista del settore non posso fare prescrizioni ma non le farei mai però sicuramente se facesti un para istituto quindi qualcosa dove dare consigli quello lo posso fare benissimo ovviamente ricordate che i consigli vanno sempre presi con in accordo col proprio medico le proprie condizioni fisiche devo dire queste frasi per massima trasparenza mi risolverei con quattro soldi e con tanta felicità materialmente ma da giorno alla notte no da qui a un anno da qui a dieci anni così con le famose frasi stupide inutili non si fa frasi esistenziali non servono l'esistenza si è e si vive si sperimenta che cazzo me ne frega sapere da dove vengo che cosa faccio dove andrò malattia quella malattia psicologica non mi devo chiedere nulla se non vivere il momento e la vita vedete in questo piccolo video abbiamo risolto tutti i nostri problemi risolvervi in modo semplice ovviamente l'alimentazione quell'altra va aggiustata non è che posso continuare a fare dei papponi dei miscugli ea mangiare quella roba perché sennò continua avere con gli stati depressivi prima o poi questi antidoti non funzioneranno più di tanto va aggiustato tutto lo stile di vita non va cambiato gli amici quelli vanno via e vengono da solo automaticamente perché quando una sorge a una certa felicità non può più stare con il gruppo dei drogati e va mollato ne parlavo anche con vincenzo e ma poi con gli amici dimmola il gruppo dei drogati perché quei drogati non ti vuole bene perché vuole che ti droghi insieme a loro perché così sei conforme a loro e vaffanculo il gruppo dei drogati un tossico non disintossichi lasciandolo in mezzo agli altri tossicodipendenti ma mettendolo via e non facendolo più di andare in contatto con i tossici dipendenti qualcuno dice ma poi così non vivo no no vivi malissimo vivi in merda dopo se continui con le vecchie amicizie perché t'hanno portato su quella strada devastante quindi uno deve scegliere o il proprio bene quindi l'amor proprio o l'amore degli altri purtroppo queste cose non si vedono quando si mangia in eccesso e si mangia i cibi sbagliati guardate posso garantirvi che a dosi ridotte di cibo anche il cibo più assurdo non crea quegli stati patologici certo non crea la salute la felicità la gioia solo per essere ed esistere come la frutta che è il nostro cibo ma decisamente non fa quei danni lo dico provate per credere prendete una fettina grossa così mangiate in una giorno tranquillamente e vedrete che vi passeranno tanti grilli per la testa e sarete molto più felici più gioiosi con la salute di ferro basta più che sufficiente l'ho visto fare prodetto ero fidanzato con una modella da ragazzo mangiava veramente solo una fettina grossa quanto più o meno la mano poco di più quindi al massimo saranno stati 200 grammi un corpo ancora più stupendo di come era prima e un individuo ancora migliore di come era prima l'ho vista letteralmente trasformarsi sotto i miei non vi piace la carne volete farlo con qualsiasi altra cosa fatelo ma anche con questo magari un giorno farò vedere un esperimento dove mangerò soltanto questa e vi farò vedere come letteralmente mi trasformerò non trasformerò e non succederà nulla alla mia salute anzi che se mangio in eccesso del più effetto dei cibi per l'uomo la frutta è meglio mangiare questo ma in difetto c'è molto meno c'è chi lo sta facendo e sta vedendo cose davvero incredibili la quantità è il primo demone dell'alimentazione qualunque alimento sia anche il più perfetto anzi quello più perfetto deve essere ancora di meno perché lavora più perfettamente ma per farlo lavorare perfettamente ci vuole un corpo pulito se no peggiora perché gli acidi della frutta il fruttosio e tutti gli altri componenti vengono a contatto con le tossine fermentano creano gas e creano problemi non indifferenti soprattutto poi di digestione ma ne parleremo magari in un altro video quindi è imperativo ripulire il corpo attraverso la pratica del digiuno non c'è altro perché è una terapia d'urto rapidissima il fatto che come lo propongono il digiuno gli altri è sbagliatissimo e fatto malissimo e porta ancora più danni e depressione il sottoscritto l'ho detto tante volte visto che ha studiato tanto posso freggiarmi di dire di essere uno sciamano occidentale sa come farlo e come protorarlo per la vita per la felicità natural durante perché quello che ho sempre fatto ricerca è stato quello per avere una vita libera felice e senza ostacoli e mi ha portato a delle conclusioni dopo aver visto provato e stando adesso nel percorso quindi se qualcuno pensa di portare le pratiche di queste persone non sa neanche che cosa è lo sciamanesimo io non ho incontrato i due indirettamente posso garantire solo due gesù del vangelo al seno della fase della pace e arnold eret del resto ciarlateria neanche i moderni divulgatori del fruttarismo sanno che cos'è lo sciamanesimo e che cos'è il vero fruttarismo perché ancora continuano a fare papponi e ancora continuano a promuovere un digiuno scellerato e ancora continuano a promuovere l'eccesso come guardate ecco come faccio a sapere che promuovano l'eccesso hanno troppo grasso corporeo addosso e questo sono due problemi papponi ed eccesso e il pappone è un eccesso perché in natura non si mescolano i cibi quindi se siete ancora in quel percorso non venite a parlare di ah io sono qua spirito e sciamanesimo non sapete neanche che cosa sia due ne ho incontrati studiate questi due ve l'ho detto anno deret e il gesù del vangelo al seno della pace gli unici due che ho incontrato in parte un terzo luigi alvise cornaro della vita sobria perché più o meno ci siamo quasi probabilmente in futuro farò un corso di sciamanesimo che durerà un anno e porterà la pratica del digiuno finalmente come deve essere fatto vita natural durante per ottenere quello che bisogna ottenere divinità in terra tutto il resto sono chiacchiere da bar e se vi è piaciuto anche questo video lasciate un like commentate e ci risentiremo buona estate a tutti